Tragedie in via Ponte Romano dove oggi pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita di un uomo in uno dei palazzi che costeggiano la via. Sul posto è intervenuto il personale medico, che però arrivato nell'appartamento non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sono quindi state alertate le forze dell'ordine come da prassi e sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia e difenza per ascoltare inoltre il racconto degli altri residenti dell'edificio. Esclusa la presenza di altre persone all'interno dell'abitazione al momento del decesso, sarà probabilmente l'autopsia a restituire le cause della fatalità.